Telespettatore di 12 porte, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie dalla Diocesi. La Chiesa bolognese ha dunque celebrato sabato la festa del suo massimo protettore, il Vescovo Petronio, con una serie di iniziative che hanno registrato una grande partecipazione popolare. La Basilica, dedicata al Santo e nel quale si sono conclusi i lavori di restauro della facciata durati tre anni, ha ospitato la solenne celebrazione liturgica. Assente il Cardinale Arcivescovo, impegnato a Roma con il Sinodo straordinario dei Vescovi, la messa è stata celebrata dal Vicario Generale Monsignor Giovanni Silvagni, il quale ha dedicato gran parte dell'Omelia alla riflessione sulla famiglia come bene relazionale dal quale ripartire in questi tempi difficili. Alla messa è seguita la processione in Piazza Maggiore e la benedizione con le reliquie del Santo. Grazie a tutti.